Eeeh, azione! Io sono la dottoressa Basile Quella dottoressa Basile Ti ricominciare tutto da capo? Non so Non è nessun problema Questo prima o poi diventa il centrodonna E non diamo le tecniche Che è sta buffonata? E se noi vogliamo addirittura far ridere con questa scena diventa una tale porcata che è financo io non mi sento di far passare, capito? Non è la linea comica! Il Dottor Jingle non è la linea comica Hai capito? E non deve far ridere perchè non c'è un cazzo da ridere Gli occhi del cuore Gli occhi del cuore Gli occhi del cuore Gli occhi del cuore